la prima cosa che si rompe le tenevo volutamente basse, quasi a costo, perché pensavo che così dare l'impressione che cos'è meno ci si finisce, ma sempre ci deve, ma scusa, ma adesso si deve fare tutto si, 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 hai fatto un'inquadratura con il buco aperto, ovale, si vede che è ovale quella è la cosa più importante, quella ci sta più precisa di tutti, si, 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 dai questo va bene, qui che c'è, no, 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 dice, con i ventilatori, итесь qua! Ci vede così, lontanamento? alzalo leggermente tanto prima di qua si scalderà ecco buona lì tieni l'ho cercato i danni hai visto? no no ma la leva la stavi tenendo orizzontale è che è un po' torta la leva nel senso che da qui puoi fare così zero gioco ora ecco wow bellino 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 speriamo abbia attaccato anche sotto ma no 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 a questa gente qui se ti hanno è il segno che gli interessi e a questo punto non ti hanno i contatti non si sa mai una vita poi le mia lupa nostra grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.